E continuiamo, continuiamo. Dottor Gambato Spisani l'abbiamo fatta un po' aspettare, attendere. Ma non c'è problema, si immagini. Il bello della diretta è che spesso si cambia in corsa anche il programma, insomma, la scaletta. Non lo metto in dubbio. Adesso invece passiamo a questa rubrica che avevamo anticipato prima, che riguarda la scuola, l'insegnamento della seconda lingua ai nostri bambini. Adesso vediamo se riusciamo a partire con la sigletta giusta della rubrica Casa e Famiglia. La rubrica Casa e Famiglia è offerta da Il pianoforte Bresciano Pianoforti nuovi o rigenerati garantiti 5 anni Servizi di assistenza, noleggio, accordatura Teleserenità opera nel settore socio-sanitario offrendo principalmente ad anziani, disabili e malati servizi qualificati di assistenza privata, domiciliare ed ospedaliera. E di badante convivente. Contattaci, la nostra reperibilità è di 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Sapere sicuri i nostri cari è serenità per noi stessi. Da oggi non dovete più trasportare i vostri animali dal veterinario perché il veterinario verrà a casa vostra. Chiamatemi per un appuntamento. Partecipa ai corsi di miglioramento personale e impara a comunicare con successo. Corso di public speaking, per non restare mai senza parole. Corso di comunicazione non verbale, per capire gli altri dalla loro gestualità e dalle loro espressioni. Iscriviti subito o chiama per informazioni. Cucciolo. 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 Siamo a metà della nostra Domenica in Famiglia. Vi ricordo sempre che potete chiamarci in diretta per fare qualsiasi domanda ai nostri opinionisti, ai nostri esperti soprattutto. E poi vi ricordo che trovate comunque il meglio della Domenica in Famiglia su Facebook, YouTube, eccetera, eccetera. Insomma, basta digitare la Domenica in Famiglia su Facebook e ci trovate. Iscriveteci, mi raccomando, mandateci dei video perché vogliamo anche ospitare persone che ci raccontano la loro storia, la loro vita di tutti i giorni. Allora, risaluto. L'altro mi ha fatto perdere il treno la dottoressa Quaranta che doveva partire, insomma, e tornare in quel... A raggiungere mio figlio. Eh, insomma il figlio... Lo raggiungerò tra poco. L'altro poco a Milano? A Verona. A Verona, ecco, a Verona. Allora, Letizia Quaranta che appunto è l'ideatrice, la fautrice di questo insegnamento per quanto riguarda i bambini da zero a sei anni, insomma, che adesso vediamo, ci racconto un po' lei come... che cosa accade. C'è un blog che si chiama bilinguepergioco.com e poi invece c'è Learn with Mami. Learn with Mami. Non mi corregga l'inglese perché insomma, se no siamo feriti. Glielo racconto. Anche perfetto, punto com, prenderò anche io qualche lezione. Insomma, che cosa accade, allora? Che cosa, questo metodo, come funziona? Allora, diciamo, il mio progetto si articola in due momenti. Bilingue per Gioco è un blog sul bilinguismo, in tutte le forme, tutte le lingue, quindi pensato soprattutto per le famiglie spatriate o miste. Learn with Mami invece è un progetto per le famiglie principalmente italiane o comunque interessate all'apprendimento dell'inglese come lingua straniera nella prima infanzia. Quindi quello che facciamo con Learn with Mami è organizziamo dei gruppi di gioco in inglese per bambini da 0 a 6 anni con i genitori. Questo è un elemento fondamentale. Quindi noi partiamo un po' dalla considerazione che purtroppo la scuola italiana fallisce nell'obiettivo di crescere generazioni che siano in grado di capire e parlare l'inglese. Le famiglie invece hanno moltissime risorse, hanno anche molta determinazione e possono semplicemente sedersi per terra con i bambini e imparare insieme l'inglese ed avviare un percorso di esperienza dell'inglese che duri poi per tutta la vita dei bambini anche quando poi diventeranno ragazzi e quindi con degli ottimi risultati nel lungo termine. Quindi questo insegnamento avviene in concomitanza con i genitori, bambini e genitori. Assolutamente insieme, bambini e genitori insieme. Perché diventa un gioco insomma. Sì, un'esperienza della famiglia. Della famiglia. Sì. Insomma siamo alla domenica in famiglia. Anche con i nonni ogni tanto. Si sposa bene. Però lei ci ha portato delle slide appunto per spiegare brevemente quello che... Ho portato qualche consiglio. Qualche consiglio insomma. Qualche consiglio per riuscire a realizzare l'inglese come esperienza familiare. Io tecnicamente le chiamo slide. Sì. Allora inizi a far giocare i bambini con l'inglese già nella prima infanzia. Questo è il primo consiglio. Io le vedrei tutte, poi le commentiamo insomma. Quindi il primo consiglio è prendi l'inglese, secondo consiglio, come un lungo viaggio non avere fretta di arrivare. Beh questo è pacifico perché insomma se si va di fretta non si impara bene. Gioca, canta, leggi, ascolta una storia in inglese con i tuoi bambini. Quindi questo significa un po' ascoltare anche dei film. Individua dei momenti dedicati all'inglese, dei rituali, una vostra routine. Quindi insomma dei momenti durante la giornata. Il quinto consiglio offre varietà di materiali e situazioni, rendi l'inglese un'esperienza sempre nuova e interessante. E per i bambini penso che sia così. Take it easy. Adesso io leggo ma significa esattamente che cosa? Prendila come un gioco. Take it easy. Prendila con calma. Ne abbiamo imparato un'altra insomma che poi tra l'altro ringraziamo anche appunto Made Easy School che in ogni puntata, adesso lei... No, non conosco. Anche lei può andare a vederci su Facebook insomma che... Fa delle scenette, oggi non siamo riusciti a montare la scenetta che abbiamo registrato però per insegnare l'inglese in maniera semplice. insomma abbiamo visto con Sean, che è un madrelingua degli Stati Uniti, come ordinare un drink in America insomma e le problematiche che si possono incontrare, insomma eccetera eccetera. Va a ruba l'inglese. Allora, torniamo al discorso. Dalle slide che le... Eh consigli, meglio consigli che lei ci ha portato. Significa che durante la giornata dobbiamo dedicare spazio alla lingua. Possiamo, sicuramente. È come suonare uno strumento, se non fai mezz'ora al giorno... Sì, è un pochino così, sì. È una cosa che richiede molto molto tempo, quindi non si può pensare che si fa inglese per un anno, due anni, poi il bambino ha imparato l'inglese e gli faccio fare qualcos'altro. La lingua è una cosa che va coltivata nel tempo, con un po' di cura tutti i giorni. Quindi anche cose molto semplici come ascoltare delle canzoni in inglese, avere magari solo cd in inglese o magari poi più avanti audiolibri in inglese in macchina, guardare i film in inglese sia ai genitori che poi i cartoni animati insieme ai bambini. Chi parla anche un po' in inglese, leggere un libro in inglese ai bambini con una certa regolarità in maniera che sia un po' un appuntamento che fa parte della quotidianità di bambini e genitori, aiuta a creare prima di tutto un atteggiamento positivo verso la lingua, che è la cosa più importante, perché purtroppo spesso in Italia si sentono tante persone, anche molto giovani, che hanno una vera resistenza verso l'inglese. Io non lo capisco, non mi piace, non lo voglio imparare. Invece in questo modo cresciamo dei bambini che sono positivi e ottimisti nei confronti della lingua e che li associano a esperienze ricche, emotivamente ricche, molto divertenti e quindi desiderano queste esperienze e quindi desiderano imparare l'inglese. Ecco, dottor Gambato Spisani, l'altra volta ci ha introdotto un po' in questa casistica, in questo percorso che lei raccontava anche dei suoi figli. Sì, sì, ecco, guardi, a me è piaciuto molto vedere queste slide perché i miei figli, che stanno diventando bilingui, vanno per i nove anni questo marzo, lo sono già per certi versi bilingui, chiaro, al loro livello di espressione e di comprensione, hanno seguito e seguono un percorso diverso. Avrà visto nella prima slide che nelle città in cui c'è il playgroup Venezia non c'è. Quindi noi, questa scuola di volo basico per l'inglese, perché i grandi piloti, gli assi, si formano alla scuola di volo basico con gli alianti. Avere i jet e non avere gli alianti non serve a nulla. Noi questa scuola di volo basico non ce l'avevamo a disposizione. Allora abbiamo scelto qualcosa di diverso, cioè una scuola internazionale che, in sintesi estrema e forse troppo semplificante, ma così è, è una scuola in cui l'insegnamento è svolto, in questo caso, in lingua inglese. Eppure tutti i consigli delle slide di Letizia 40 sono ugualmente validi per la nostra situazione. Perché anzitutto vanno coinvolti, questo non c'era nelle slide ma era la regola di base che ha detto Letizia, vanno coinvolti anche i familiari, i genitori in qualche caso se ci stanno anche i nonni. Una delle ragioni fondamentali che ha portato persone anche con cui si era e si è tuttora in amicizia ad abbandonare la scuola internazionale è, ma io l'inglese non lo so, poi mio figlio non sono più in grado di capirlo e di seguirlo. Bene, chi ti dice che devi restare così? Datti da fare, imparalo anche tu. Io personalmente per l'inglese ho alle spalle una stessa storia al contrario, nel senso che io ho fatto inglese tre anni alla scuola media, poi due anni al liceo classico perché all'epoca, dopo i primi due anni la lingua straniera era considerata qualcosa che non andava bene, qualcosa che Cicerone non avrebbe approvato per così dire. A questo punto io esco pensando di essere assolutamente negato per le lingue, d'altra parte se voi dopo cinque anni di scuola guida non sapete parcheggiare l'automobile, non date la colpa alla scuola, specie se siete ragazzi, date la colpa a voi stessi. Una delle esperienze più imbarazzanti della mia vita ci portavano a vedere i film in lingua originale senza sottotitoli. Ancora oggi mi domando perché, perché non si capiva una parola che fosse una, non ne avevamo gli strumenti. Per mia fortuna, e qui entra una delle slide di Letizia, trovare sempre nuovi interessi, mi piaceva James Bond, mi piace tuttora, e i romanzi non erano tradotti in italiano. Allora cosa faccio? Me li ordino per posta, con l'aiuto del vocabolario e veramente delle quattro righe di inglese che sapevo, mi metto a cercare di decifrarli. Da lì, sapete, la valanga comincia con una pallina, poi si ingrossa, si ingrossa, si ingrossa, e oggigiorno, non mi voglio dar giudizi su me stesso, però i miei figli riesco a seguirli. Se ci sono riuscito io, penso che ci può riuscire chiunque. A lei è troppo modesto, insomma. Boh, guardi, dovrebbe esserci qui mio figlio, che si chiama Mario anche lui, tra l'altro, e direbbe, ma il papà con l'inglese se la cava male, perché a quel punto quando i bambini o al play group o all'asilo della scuola internazionale, perché dobbiamo fare un confronto con una fascia omogenea, cominciano a muoversi in inglese, tu devi accettare una cosa, si muovono e si muoveranno comunque meglio di te, e con questa tua inferiorità devi convivere sportivamente. E qui, devo dire, è più un problema psicologico che linguistico, culturale o quello che è. Se questo non ti imbarazza e ci ridi sopra, allora puoi, come facevamo noi, creare le nuove occasioni ogni volta. Per esempio, quando Ilaria e Mario sono in reception, che per noi è l'ultimo anno di asilo, invece col sistema inglese è il primo di elementare, cominciano a leggere e a portare a casa i libriccini e si dovevano esercitare. Allora ci sediamo sul divano o anche sul tappeto raccomandato da Letizia e c'è una difficoltà. Ma papà, ma io lo so che tu parli italiano, perché devo leggerti in inglese? Allora cosa ci inventiamo? L'orso di stoffa. L'orso di stoffa parla solo inglese, quindi dobbiamo leggere l'orso di stoffa e con quel sistema siamo andati avanti. Cioè bisogna inventarle un po' tutte per i bambini. Sì, sembrano sciocchezze, però io questo sottolineo moltissimo. Certo. Il problema non è dei bambini, il problema è dei genitori, al 99%. Perché il bambino si diverte poi a studiare in inglese. Il bambino si diverte, la considera una cosa naturale e oltretutto impara molto presto a convivere con la diversità. Roberta, mi scusi se hai troppo, vedo che… Dobbiamo riconoscergli la simpatia al giudice Spisani. Ma io divento rosso, dovrò chiedere al truccatore se hai un po' di polvere di riso da mettere sulle guance. E quando ci si mette la nostra Roberta bisogna sempre stare attenti. Io ho fatto atti persecutori per portarla in televisione. in effetti ha comprato un ago da materassi e con quella mi ha punzecchiato qui lungo la via Solferino. Però a parte diciamo ecco la simpatia, naturalmente è sempre ben accetta perché poi insomma si parla di cose serie, a volte anche col sorriso e insomma l'inglese è una cosa importante. Insomma, Letizia… Assolutamente, lo sappiamo che è importante. La notizia bella… Però lei ha… cioè quello che voglio dire è che lei forse l'abbiamo fatto emergere poco è la fondatrice, la creatrice di questo metodo. Sì, sì, certo. Sì, io sono la fondatrice di Bilingue per Gioco e di Lerwin Mami. Entrambi i progetti sono nati dalla mia esperienza anche di mamma di un bambino bilingue in italiano e inglese chiaramente. No, quello che volevo dire, la buona notizia è che l'inglese è sì importante, questo lo sappiamo, ma può anche essere una cosa bella, una cosa divertente che piace sia ai bambini che ai genitori e che si vive insieme. Però ecco quello che chiediamo sempre ai nostri ospiti, noi siamo riusciti in questa occasione a montare un video insomma per tante motivazioni che lei aveva, per i diritti, c'è copyright e così via. Ecco, faccia anche col cellulare, non c'è problema. Insomma, oggi con i cellulari la qualità è altissima, insomma. Quindi faccia dei video, quando fate le lezioni, quando ho visto i riofanti, insomma questi gruppi con i bambini, chiaro poi con la liberatoria dei genitori, insomma, che facciamo vedere che cosa accade, come funziona questo metodo, questo insegnamento, perché insomma è una cosa sempre curiosa da vedere di persona. Certo. Guardi. Posso aggiungere, scusa, una cosa? Ma devi. Grazie. No, volevo dire che i gruppi di gioco in inglese, le Ruin Mammi, sono già abbastanza diffusi in tutta Italia, da nord a sud, quindi andiamo da Torino a Lecce. Sono nella nostra vicina Milano, sono a Verona nella mia città, a Vrescia ancora no, perché aspettiamo l'insegnante giusta. Aspettiamo l'insegnante giusta. Allora, con questo appello io purtroppo devo chiudere questa parte perché abbiamo ancora... aggiungerei solo una cosa, noi diciamo che l'inglese è importante e sappiamo per cosa, per la vita futura, per il lavoro, però una motivazione più immediata che ha fatto molto presa sui miei bambini, su YouTube si trovano i cartoni animati dei loro beniamini delle ultime serie, prima che vengono doppiate e oltretutto vengono caricate molto più facilmente. su YouTube in italiano, per esempio l'ultima serie delle Winx o di My Little Pony in inglese la trovi più facilmente che in italiano perché tendono a cancellarla per ragioni di copyright. Quindi l'inglese è quella cosa che ci fa essere subito aggiornati sulle vicende dei nostri beniamini dei cartoni. E poi se si impara da bambini insomma ci si diverte e non si ha poi più il problema poi da grandi di dire the pen on the table e the cat, insomma le famose frasi, perché vedo che tutti ridono qua anche fuori dallo studio, sono le solite frasi, one lesson che tutti noi abbiamo imparato alle scuole medie, superiori eccetera eccetera insomma non avendo approfondito determinate contesti e sono quelle che dicono hello, how are you, ci arriviamo tutti i figli. Allora ringraziamo, allora innanzitutto io saluto le nostre ospiti che sono un po' maleducato a volte insomma, Roberta tu riprendimi ogni tanto, le nostre ospiti che adesso parteciperanno a questa ultima parte poi abbiamo anche, parliamo anche di Angeli, adesso inviterò Cristina Guerrise con noi, allora saluto Paolo Baldassari che abbiamo visto in altre puntate consulente di Feng Shui che oggi ci parlerà di benessere con le campane tibetane e saluto Patrizia Grandi, invece astrologa che ci darà dei consigli importanti per l'inizio di questo anno, insomma siamo a gennaio quindi abbiamo ancora un anno davanti. Chiudiamo questa parte, ringrazio il giudice dottor Francesco Gambato Spisani che è sempre veramente disponibile e simpatico come dice Roberta, grazie, grazie, ringrazio dottoressa Letizia Quarante insomma che vogliamo approfondire poi questa tematica, mi raccomando ci lasciamo con, facciamo vedere un video, eccoci porti del materiale perché ci interessa approfondire questa tematica.